Buon pomeriggio a tutti da Stefano Rossoni della Giovanitalia e benvenuti al Derby della Lanterna, seconda giornata del campionato Under-16. Andiamo subito con le formazioni in grafica, con Abdoulaye Konko che conferma gli undici schierati settimana scorsa contro il Cremonese, in attacco spazio a Mendoria, Nuredini e Ndurue. 3-4-2-1 invece per Mister Pastorino, Siri, Maranca e Riccardi, i tre difensori, Vitale e Rosciglioni alle spalle di Recagno. Riceve il palo a Mendoria, che la apre d'esterno bellissimo per Anor, che può inserirsi in area di rigore, aspetta l'avversario, vede un compagno vicino, Rossi in mezzo sul secondo palo, Mendoria sembra lungo, ma invece c'è il gol del vantaggio del Genoa, 1-0, Mendoria. Genovese, prova a verticalizzare e pagliare, capisce tutto, e allora passaggio dentro per Ndurue, che fa sportellate con il difensore avversario, Ndurue. Prova il raddoppio del Genoa, 2-0, Ndurue. Lancio lungo a cercare il solito Ndurue, fa sponda per Mendoria, che può servire ancora al compagno in area di rigore, Ndurue, Tommasella, respinge il pallone e poi lo blocca. Prova ad attaccare sulla sinistra Sampdoria, con Carlini, che tenta l'uno contro uno, va via Carlini, trattenuta, ancora Carlini, Rossi in mezzo, c'è un tocco di mano, per l'arbitro non ci sono dubbi, calcio di rigore, fronte a calciare Casalino. Parte Casalino, Magalotti, gli dice di no, si rimane sul 2-0. Si gira e può cercare un compagno, il pallone diventa buono per Papasserio, che può puntare l'area di rigore, Papasserio, atterrato, Atterrato, altro calcio di rigore per la Sampdoria, non più Casalino da rischetto, ma Genovese. Parte Genovese, Magalotti spiazzato, 2-1. Magalotti deve intervenire fuori dall'area di rigore, allora Genoa può spazzare, ma sbaglia e Rossiglioni può calciare in porta, c'è un tocco di mano ed è terzo calcio di rigore per la Sampdoria. Se l'è procurato lui e allora vuole prendersi la responsabilità, Rossiglioni, parte col destro, 2-2, partita riaperta. Calcio di punizione nella buona posizione per Papasserio. Parte col destro, Magalotti respinge con i pugni. Ricomincia da destra il Genoa, pallone sfiorato da Mendolia che diventa buono per Ndouloué, che scatta verso l'area di rigore, ancora Ndouloué! 3-2 Genoa, doppietta per Ndouloué! Calcio di punizione dal limite per la Sampdoria. Sembra intenzionato a battere Papasserio? Va lui! Sotto la barriera trova il pareggio, è 3 pari tra Genoa e Sampdoria. Rimane a terra Ndouloué, ma l'arbitro lascia proseguire. E allora il pallone arriva in area di rigore della Sampdoria. Anor viene atterrato ed è calcio di rigore per il Genoa. Pagliari dagli 11 metri. L'incorsa lenta, Pagliari! 4-3 Genoa, che partita! Rimessa lunga a cercare un compagno, ma il Genoa spazza facilmente il pallone. E finisce qui, il Genoa vince un derby incredibile con il risultato di 4-3. La rete decisiva è di Pagliari dal dischetto. Grazie a tutti!